signori eccoci qui sono frank mazzoni siamo tornati a portarvi un gioco abbiamo acquistato assassin creed odyssey signore e signore un gioco bellino un gioco carino che al prezzo di 19,99 che vuoi lasciare lì dato che noi dovremmo andarci a buttare su assassin creed balalla questo qui sotto ho pensato nel frattempo durante l'estate che si gioca aggiamo torniamo su assassin creed ho portato i primi tre capitoli ho fatto nella mia vita diciamo di assassin creed 10 11 capitoli non so quanti sono in totale comunque ho portato i primi tre ho giocato i primi tre le ho giocate mi sono divertito e quant'altro poi mi sono bloccato nella serie dato che ora esce assassin creed balalla dei vichinghi potete vedere io c'ho un taglio molto vichingo io amo i vichinghi la storia dei viking della serie tv ho pensato avviciniamoci a questo torniamo a riavvicinarci a assassin creed tramite l'utilizzo di assassin creed odyssey un gioco che volevo già acquistare però ho detto va pensiamoci ancora un po' aspettavo che calava il prezzo dato che ora esce questo 19 99 direi di andare a provare a fare le varie prove per arrivare a a giocare assassin creed balalla al meglio delle nostre possibilità messi signori direi di non indurci in tentazioni liberiamoci dal male e vai con assassin creed odyssey siete pronti anch'io andiamo a vedere vediamo di cosa si tratta non l'ho mai seguito ogni tanto le vedevo cliccando ma non avevo mai visto dall'inizio nulla che continua a installare schifoso fu il maledetto sta pronto a fastidio l'avrezzato al frencone abbastanza abbastanza devo dire sono molto abbronzato per ora però per un questo assassin creed odyssey perché non andiamo su un taglio proprio da 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 romano perché nascondere il capello di achille teniamo il capello di achille ma è una bettina dina di agghi e dati la bettina da maledetto schifoso di agghi ok ci siamo ok siamo molto più achillosi così il nostro chile deve essere un po più visibile ci siamo ovviamente noi togliamo subito la musica devo vedere ora nel gioco se la telecamera dove sto va bene non va bene vedremo un pochino assassin creed odyssey statica in mezzo sembra che c'è un culo sei il culo in testa e la riga in mezzo basta sta musica del copyright schifoso perché non in live franca in video perché 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 fatti cazzi tuoi è proprio papale papale italiano scarica sentite sentite il pezzente e se ancora vivo si bene l'esperienza di vedi quando uno dici frank è il mio youtuber preferito 2 giga di scaricamento il coglione ho scaricato lì assassin creed odyssey sono il numero uno non ho scaricato l'audio ci vediamo appena è pronto che vuoi che ti pare detto schifoso sta zitto che già sono in casa lavorato per l'audio non devo aspettare che finisce l'audio ovviamente tagliamo e ci vediamo appena finito l'audio tanto vado vado a spiegare una cosa al cane fuoco dopo le baglia un vicino e lui abbaglia schifosi sta zitto ciccione quanto sono un coglione altro sono un coglione adesso sono un coglione ha messo in pausa il video per cosa per cosa 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 ho detto ho detto ho letto lì ho 114 minuti poi c'è lias che sta che sta giocando a gta tanto da aspettare meglio mettere in pausa fare lo stacco e poi ripartire schifoso maledetto schifoso al gioco erica e chi l'ha inventato brutto maledetta schifosa che ancora non c'è il coraggio di dargli via una sera con la crisi pensavo che era il download dell'italiano invece quello qui brutto 2 giga che l'ha fatti velocissimo schifoso proprio anche lui guarda fu schifoso maledetto ripartiamo 19 euro non mi piace però devo rientrare nella situazione di come si utilizza bene assassin creed devo ricapirlo bene per essere pronto su valanda ragazzi non è che mi son fatto crescere i capelli così perché mi piace il taglio questo è un taglio da vikingo per valala sto preparando non so se avevate capito inteso valala vichinghi the viking la serie tv ecco poi mi piace spiegata da fatti personaggi storici questa è un'opera di finzione progettata sviluppata e prodotta da un team fammi leggere schifoso come faccio a vedere sto gioco non salvo a tonne si può leggere posso assassin creed odyssey detto bene cosa andiamo a togliere prima di cominciare per tutto premo x stavo giocando a mad max ragazzi ma io volevo portarvi una cosa nuova mad max ci ho giocato per metà l'ho riportato cioè ci ho rigiocato per metà perché mi piaceva il combattimento parare e colpire parare e colpire il gioco giapponese jim jim chang com'era shin zang come si chiamava quello giapponese l'ho acquistato poi mi sono fatto ridare i soldi da sony schifosi volevo fregare il gioco giapponese non c'è a togliere la musichetta però oh io ho già messo italiano già scaricato non romperà il primo video va via così di tutorial ma neanche il tutorial di entrare così va via il primo video continua schifo si può fare un video siamo già non so quanto 8 12 minuti di queste cose va bene continuo col quadrato arrivato ora sta musico come stare potrebbe essere addetti giocatori di tutte le talle loro contenute promosso risorse rimane attivato già in qualsiasi momento attivare storie modi creato un modo come sarebbe stata non adatte bambini attivare no disattiva io io tutto madonna vai subito su option poi ora aspetta che lo trovo la musica oh 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 leggo audio senti che era un pimento di coglioni ma lo senti si 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 continuo continuo sto godendo sto godendo non se quanto sto godendo dovevo fare cerchi ora come goto in questo momento che mi sono tolto la musica di mezzo allora vediamo che dici questo cosa c'è qui rimane aggiornato sui statisti con il delogio ma che cacchio aspetta un po' lo schermo va sistemato io sto qui nato voi state buoni il sistema lo schermo sperando che nessuno si iscrive in questo momento perché se no mi appare la descrizione a schermo che non ho tolto raga scusate ma è un po' che non torno su youtube quindi dovete dare più pazienza ok ci siamo tutto è 1080 adesso portando ovviamente il video è tutto a 1080 nuova partita di scopri tu le mie storie direi che andare direttamente su nuova partita cattivosi ci siamo via la manina schifosa per mezzo bello il nuovo gioco finalmente il primo video, il primo episodio è così eh il primo episodio è bruciato così di ok prova a scaricare che dà via il gioco il professionista è arrivato sono dimenticato l'italiano sì come 300 ho già capito la rupe da dove buttano eh vedi siamo pronti a parte perché me lo scrivi solo so puoi capire nooo non lo voglio sei mai andato a pescare con tuo figlio non lo voglio la scritta sento mi confonde l'occhio dopo lo tolgo dopo lo tolgo non posso toglierla adesso con option guarda premolo un po' modunno aspetto la pausa andiamo a incontrare il destino aspetto la pausa lo tolgo vediamo ma vediamo via spartani oh ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora so leggere so già cosa stai per dire mi rovini tutto ogni lacrima tutto questo non option vado a trovare un cambio i persiani sono qui per renderci tutti schiavi io ho un'idea migliore io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue con il loro sangue sappiamo già che cosa ne dite spartani il solito discorso tutte le volte per i nostri figli alle battaglie per le nostre figlie per sparta si può? potrebbe giocare? quindi io sono questo? voglio option subito come devo cosa voglio togliere i sottotitoli via subito ora devi parlare ancora devi farmi leggere ancora il sottotitolo vediamo allora gioca a te gioca a lui io non ammazzo nessuno gioca diverti gioca a lui già questo gioco mi sta sui coglioni un po' devo guardare oh che bello io voglio parare non lui schifoso si ammazzassero subito è finito il gioco si ha preso? forse le mie preghiere è arrivato il momento posso? cosa ho detto? cosa ho detto? cosa ho detto? ho detto che voglio togliere i sottotitoli io i sottotitoli non li voglio lingua vabbè lingua sottotitoli italiano ma se l'audio è in italiano no? non si possono togliere lingua sottotitoli aspetta 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 mostra sottotitoli lo seleziono così guarda ok vai tolto oh guarda è normale che cazzo andiamo a vedere un attimo la cosa vediamo se qui c'è qualcosa dove sono io no perfetto vai mi metto qui a rompere i coglioni davanti a sé ok ah devo giocare aspetta L1X cosa devo fare? ma ne scappa lui guarda che schifoso cosa devo fare? se non me lo dici maledetta schifoso L1 vuoi? no e dillo non caccio nel culo schifoso l'urlatore comico e ora? ma cose normali caccio nel culo ti do L1X ma non posso premere dei tasti normali tipo quel quadrato quadrato edito mi colpisco senza tenere premuto L1 scusa ma cos'è? ma per ora fastidioso guarda ammazzo schifoso ma perché io colpisco con L1 o R1 ma che roba è? R2 ma io voglio usare i tasti tipo quadrato L1 per colpire R2 a fondo pesante ma sta zitto schifoso ma è proprio brutta sta cosa Cioè L1 colpisco L2 colpisco L oh infatti cavoli tua sto lavorando una poi ma che ha le pozioni come le odio queste cose guarda ma state che ne siete drogati che rispondo tutti ma a me le pozioni guarda già mi sta sulle palle queste cose le pozioni ma è brutto per ora fa schifo sto gioco ma ha detto a me quando ho speso 19 euro cos'è 8.517 cos'è 8.5 guarda 4.000 4.750 ma che cos'è un avversario normale da 0 a 100 ho tolto 10 8.15 20 io ho tolto 7.972 ma cos'è hanno queste novità che vogliono fare guarda le brutte dove devo andare fammi andare subito la giunta capito non arrivo qua livello 40 spondo quello a livello 40 leva di drogato lui voglio 13.000 guarda guarda non si difende neanche guarda passa uno a caso lo ammazzo ma perché non te lo dice neanche se la missione ammazza questi e se voglio usare una spada la do ammazzare questo ho capito fino a che lo ammazziamo questo adesso il gioco è così guarda direziona e premi sempre le due per ora mi fa incassare ecco cosa mi fa per ora schifoso nella gozza te la do e te cosa vuoi drogato schifoso noi stiamo vincendo ooooh levati dai coglioni ma poi come si evita però è complicatissimo guarda guarda non lo vedo guarda nonno non mi pare colpi questo non pare neanche muore e basta guarda uno scemo allora va avanti per molto sta merda la devo andare e levati dai coglioni vediamo sicuramente do il calcio capito ho avuto sotto perché io sono innovativo vediamo vai ammazzatutto arrivo io ti scondi guardiamo battaglia epica vediamo guarda me la vedo tutta grossa vediamo ma stai zitto porterò la tua testa a Cersei si si lo pucca cersei manda il suo grecci al macello coraggio persiano aspetta porterò la tua testa a Cersei vieni vieni spartano insolente vieni a prenderla premuto per stendere la schivata proviamo vabbè tengo premuto per evitarlo capito posso sfondarlo i colpi guarda 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 che nabbo guarda che nabbo ma dov'è la difficoltà a parare guarda guarda che nabbo quando diventa rosso ovviamente premi quadrati fallirai cersei è il re dei re si come ti aggancio ok sta zitto ma chi è che parla sembrano due persone lontane sta zitto ma non vedi che stai pilando e bar sarebbe ah è lui che parla guarda 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 che combattimento difficile basta venire premuto sempre vabbè ora evitare una nata che stanza il coglione guarda combattimento difficile uno scontro facile per uno spartano primo approccio isputerei sono ancora a pensare ai miei 19 euro quando ho 8 euro e 99 c'è il Mad Max ma lasciamo per ora vi dico compratevi il Mad Max 8 euro e 99 al volo il Mad Max per ora rimarrà sempre il gioco più bello che abbiamo giocato su PS4 dei zin come da Mad Max ma l'onno è accettato vediamo oh tronca i reti bie ride ho entro l'alba sarete completamente circondati siamo spartani quando non lo siamo spartani oh scemo il mio meme che perderà significato quando Cersei spazzerà via la vostra razza dalle oh non parla più belle però ste scele questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare ma domani bella così sarà un giorno che il mondo non potrà scordare c'è un primo impatto non è piaciuto tanto quello affarino che tengo premuto l1 tiro le pozioni quelle cose ecco mettessi le mani oh gli ho detto non la toccare e lei è andata lì su di do a pigliarla incredibile lei la credi che sia davvero la lancia si è lei che siamo nel futuro il libro era messo praticamente sopra se ti ho detto non toccarla no lo sapevi che era lì brutta storia ok azioniamola sei sicura che possiamo fidarci cioè il libro potrebbe fa come ho detto c'è sempre il collegamento con sei tu il capo ma che bella è sta brutta me ne appoco io brutta brutta proprio bene virus giusto perché tu lo sappia ho fatto delle modifiche dall'ultima volta non si metterlo mai le mani è impossibile stare al passo con la tecnologia posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima se vuoi ah c'è sempre stato l'animus questo è scemo proprio questo è scemo questo è scemo incubo vediamo se è difficile incubo sarà impossibile esagerato proprio una roba esagerata difficile massima potenza vediamo cosa sa fare questa bellezza lo dico sempre o tutto o niente comunque già i giochi che ti dicono facili difficili normale è una cosa odiosa perché non è bello così è bello che cominci facile poi ma la mano diventa sempre più difficile il gioco per arrivare alla fine che ti devi fare un mazzo non piace sta cosa e scegli facili difficile mad max non ce l'ha sta cosa mad max non ce l'ha più più vai avanti più diventa difficile il gioco ma non che cosa brutta proprio ma vaffanculo ah franco quel consigli gioco quel consigli perché non so dove andare io schifoso io non mi chiamo Leila guarda il primo episodio quanto si allunga più verità più verità nei suoi testi di quanto pensi quale modo migliore di trovare manufatti isu che fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della progenie lo so ma fidati di me forse hai ragione la lancia il libro non significano nulla ma qualcosa mi dice discorsi noiosi che nessuno ascolta all'astergo lo scopra prima di noi all'astergo perché noi dovremmo abbinare ai precedenti capitoli capitoli uno che lo prende per la prima volta scritto è in cattive condizioni per usare un eufemismo il dna trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi devi scegliere tra i due filamenti di dna la scelta è tua oh madonna oh madonna cazzo è andrà sì guarda c'è una propria facciata mi piace giocare con le donne perché perché dentro di me potrebbe una donna non si sa va a piare alex su do anche se c'è una pace non si può vedere lui ci condurrà sulla strada giusta d'accordo capo siamo pronti a partire 431 avanti cristo arriviamo l'inizio della guerra del peloponneso buona fortuna non voglio metterti sotto pressione ma è tutto nelle tue mani stavolta l'absterco non vincerà se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere puoi farcela ah victoria leggi il libro contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì agli ordini capo posso giocare devi non farti male agli occhi sempre togli sto cosa bianco fastidioso la luce bianca devo guardare la luce bianca me le vuoi spaccare le pupille? guarda guarda ma tu un coloro più attenuante veramente sto così sto così voglio dire se me le sfondo c'è 10-10 sono meglio di quest'aguila qui aguila marcio l'isola di Cefalonia ma vediamo se è tipo una conquista di un pezzo di mappa mano a mano che conquisti sblocchi allarghi confini vediamo un po' si potrebbe essere interessante te la fa vedere guarda quanto è bella grafica meglio dei zii eh guarda ha preso un pesce lupi vabbè ci sono degli animalacci schifosi ora vorrei vedere da dove nasco io da dove sono guardiamo dove sono io voglio nascere bambino in un gioco appena nato brutto rugoso no deve essere già che io sono già uno esperto sei stro stro ehi faccia di merda vieni giù faccia di merda che mi hai chiamato faccia di merda chi mi hai chiamato faccia di merda il ciclopo è un messaggio per te viva il tuo campo già uno che ti salta per la volta scorsa e quindi ma laca no lo so di sfondare il ciclope diceva che hai fegato facci vedere avvicinati qui e scoprilo dovresti saperlo per parare devo tenere premute due non una devi imparare la lezione se il ciclope vuole darmi una lezione mi devi di venire a darmela di persona perché devo picchiare con questi tasti perché io voglio usare questi potente quadrato x leggero questi arrivano morti finito la loro vita succede ogni settimana non può continuare così grazie dell'avvertimento cosa sta la sticca marcia questa che è che ti è successo dovina come è successo ora è tutto a posto due morti intera davanti a te non ho ancora imparato la lezione a quanto pare no prego accomodati pure hai fame anche tu Icaro e tocca il mangiare degli altri mi dà fastidio come ha fatto con te Alexios forse potresti chiederglielo da parte mia perché vuole l'acqua ancora questa storia lo chiederò a Zeus per te ancora questa storia lo chiederò a Zeus per te così ah e devo rispondere a questa qua ancora questa storia lo chiederò a Zeus per te c'è scritto sì non mi fate spostare si fa la brava si fa la brava che ci fai qui ah quasi dimenticavo Marco ti sta cercando Marchino sta per merda da quando Marco ha un vigneto a che punto della strada per Sammy vado da lui facciamo che vado da lui senza far domande almeno chiudiamo la discussione sembra la più ovvia ok grazie ciao sputo ti devi lasciare avverto Marco del tuo arrivo ah questi non sono morti 60 spadate perché se le spadate per poi avrà un impatto più o meno visivo valuta almeno l'opzione perché alcune scelte influenzano la trama e sono permanenti cosa vuol dire vuole di qui siete morti no muore ammazzate le sud avete commesso un errore a venire qui ma per me li ho già battuti mi attaccano mi vado a ammazzare poi vedi un arco intero e io non lo posso prendere un'altra cosa fastidiosa no no queste sono cose brutte comunque sai sta roba delle foto trasporta ecco questa è una cosa carina si possono togliere i cadaveri anche te non mi fai all'età mai o qui che schifo dove l'ho butto come l'ho butto poi non mi farò accogliere impreparato un'altra volta oggi ma lo lascio qui se ne frega oh io ne ci ho buttato non lo so accogli la tua attrezzatura prendiamo attrezzatura vediamo un attimo ma raga io direi che dopo aver tolto queste merdacce dal mio giardino per oggi potremo anche finire qui oh come faccio per buttarlo dentro qui lasciarlo in terra x non posso cioè non c'è un modo per prenderlo e buttarlo senza fare le mosse a parte che brucia e ci sta sopra vabbè già quando fanno tutte queste cose diverse cose semplici mi servono a me cose semplici gioco comandi vediamo un altro comando se mi cambia i combattimenti perché devo picchiare col destro e sinistro attacco pesante la parata l1 r1 insieme perché invece non mi fa usare un tasto solo per la parata io dici te alla cristina che ho buttato via 19 euro ma io sto pensando teniamolo così teniamo così e andiamo avanti nel prossimo episodio e vediamo un po' che non mi possa andare no non guardo nulla questa roba non ci va di fuori così tutto inizio ok ragazzi allora fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio speriamo che sia meglio perché per adesso come traduzione non per il casino che ho fatto ma mi fa cagare per adesso come si combatte e tutto vediamo nella prossima sapete che per me scendiamo giusto e difficile ma buona ragazzi quanto video ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio vediamo un po' come va da Frank Mazzone è tutto basta e chiudo è il fischietta lei can't touch this ciao ciao mi mi Ah, ah, ah